Luciano Sparretti, allenatore del Napoli, campione d'Italia, a poche ore dalla conquista di uno scudetto storico, racconta in esclusiva per le nostre reti le sue sensazioni. Io in questo momento qui mi sento appagato, mi sento contento, tranquillo di aver donato tanta felicità ai tifosi del Napoli, è quella la cosa fondamentale, è quella la vera felicità, aver fatto felici tante persone, aver dato la gioia a tutti quelli che amano il Napoli. Il Venezia, di cui è stato allenatore all'inizio della carriera in Serie A, si è congratulato con lui attraverso un posto nei suoi profili ufficiali. A Nordelto Sparretti ha guidato l'Udinese fino alla qualificazione in Champions League. Lui ricorda il suo profondo legame con la terra e la tradizione contadina. Chi ha a che fare con la terra sa che poi per avere un risultato bisogna lavorare duramente, bisogna aspettare molto tempo e chi lavora duramente la felicità è una cosa fugace. Lo scudetto del Napoli è un evento storico, è qualcosa che esce dagli schemi, un evento di cui tutti gli addetti ai lavori e non solo quelli del Napoli ne traggono beneficio. Se lo merita Napoli, ma anche tutto il nostro calcio, in generale si merita questo scudetto che ha vinto il Napoli.